musica non ha cercato di saltare ma... ce n'è un altro non mi hanno messo più veloce io c'ho il tasto del coltello lontano no c'è un medico ecco il medico che stagione che strage anche che ci potrebbero attaccare agli attiro io voi rimanete in gruppo non so l'ho visto no ma è satanato io mi sento se ne era bene in faccia ma dai Andrea Nabbo con la pistola altre giornate ci sono cose fribilature non fatti il cazzo altre giornate ma cosa vuoi da me sei passato la mano ma che altre giornate siamo circondati si oh che fine ma perché se io premo il coltello ma raga come si fa ad ammazzare prima io vedo che lo colpisco ma guarda lo spade non crepa e i vanni in merda basta nooo figli di puttana resisti Andre quale tecco ecco l'ho visto eccole eccole grande oh calcio calcio Daniele ma abbiamo accoltellato l'ho l'ho un griffato omer mia prima omer basta che prete punze doveva accoltellare uccide tutti il mio è lento da contellare faccio il movimento per me non capito perché reale qua camperale prete prete per tenere molto attuale situazione si dunque chiede un po' di mortali iva nero paranti portali non sono io che sono medico per l'accento di maniere le allanze il modo da me ma dai ma ti accontrò io cavolo perchè devo cambiare l'uomo devi cambiare c'è una postura perchè non abbiamo ciò che mi ha fatto tu arrivo raga oh dove siete ora mi è sopra capire un attimo che mi voleva dire crede non è ho detto che non ho ecco non ho il tuo padre picciato via ahahah ma rimani così che ti piace oh non c'è in pietro cazzo ho preso il volo ahahah ci sono presto che si corrompata da ci sono anch'io la foto ehm cazzo vieni dietro perchè aspettiamo i rinforzi merda no 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 ma prendeteli i medici invece dei cecchini almeno tira tessuno no 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 i cecchini sono più bene oh fa di fronte ma è questo si non sperare no non sperare non so no fuori uno fuori uno fuori uno siiii guarda che uomo eccoli 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 ho preso ho preso ho preso si attenti v 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 eccoli ho ampet bel v cuore g d v v us spot i gi ok no tutti ma perché io io sono io non ama con me la mia scopo come sottotitoli sottotitoli tbc cazzo per farlo porto gioco per l'alto per me e' appena scelta fanno da tanto loro 2 Cazzo però va Rianima, rianima Che è successo? Rianima